Chi è Vincenzo Falabella? Vincenzo Falabella è una persona con disabilità acquisita che oggi ricopre un ruolo importante quale Presidente Nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Quali le azioni e gli obiettivi importanti che la Federazione persegue per rappresentare al meglio le associazioni federate? La Federazione è una organizzazione di secondo livello a cui aderiscono le maggiori organizzazioni nazionali che si occupano di tutela i diritti delle persone con disabilità. I principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è diventato il manifesto principale attraverso il quale la Federazione e le organizzazioni ad essa appartenenti cercano di lanciare come sfida al Governo per garantire pari opportunità ed uguaglianza dei diritti. Insieme alla Fande siete interlocutori privilegiati delle istituzioni. Quale linee state attualmente portando avanti con il Governo attuale? Permettimi di fare una precisazione. Non piace utilizzare il termine privilegiato. Piace invece utilizzare il termine autorevole perché l'autorevolezza l'abbiamo costruita nel corso di questi lunghissimi anni con confronti e con dibattiti sia all'interno che all'esterno del nostro Movimento. Siamo stati auditi dal Presidente incaricato, allora Presidente Conte, oggi Presidente incarica del Consiglio dei Ministri e abbiamo cercato di confrontarci con lui proprio per porre i temi delle disabilità come temi importanti dell'agenda di governo e che il Governo si assuma responsabilità politiche necessarie e non più rinviabili proprio per cercare di dare dignità e pari opportunità alle tante persone, alle tante famiglie che vivono con una disabilità proprio perché crediamo che quell'articolo famosissimo 3 della nostra Carta Costituzionale ma nella sua completezza la nostra Carta Costituzionale possa essere garantita giorno per giorno. Tra i temi che la Federazione ha in agenda è presente anche quella della diffusione di una maggiore consapevolezza dei rischi tra le persone con disabilità? Certamente, è un tema molto presente nel dibattito politico del nostro Movimento, cerchiamo di attenzionare quelle che sono le criticità ma soprattutto di costruire una cultura ed un progetto politico che vada nella direzione di risolvere queste criticità e garantire soprattutto quella dignità che è prevista dalla nostra Carta Costituzionale. È molto importante conoscere le persone con disabilità, diffondere i rischi dei territori e ai comportamenti da adottare in ordinario e in emergenza, sapere come potere essere di sopporto attivo per la macchina organizzativa di protezione civile. Beh, questo sicuramente. Occorre una responsabilità, permettetemi questo termine, da ambo i lati. Una parte, la macchina organizzativa, deve conoscere le esigenze delle persone ma soprattutto deve avere ben chiara una mappatura dove vivono le persone, con quale disabilità e il contesto sociale e familiare. D'altra parte, le stesse persone con disabilità devono informarsi sui rischi dei propri territori di modo che possano affrontare l'emergenza in maniera coesa e in maniera sinergica con chi va ad intervenire per prestare e portare a loro sicurezza e attenzione. Accennava alla mappatura. Ci può spiegare l'importanza di questa misura? Ma innanzitutto credo che sia necessario e doveroso che chi interviene sappia chi trova all'interno di un'abitazione o di un luogo. Di conseguenza sapere che in un'abitazione vi è la presenza di una persona con disabilità motoria piuttosto che con altre disabilità è necessario e indispensabile proprio per armonizzare gli interventi e far sì che quegli interventi diventano efficaci ed efficienti per garantire soprattutto l'incolumità della persona e di chi interviene a proteggere quella stessa persona. Cos'è per lei la disabilità? Più che per me la disabilità è un concetto in evoluzione negli ultimi anni. Non è una malattia ma è l'interazione con l'ambiente esterno. Più ostile questo è, più viene elevato il grado di disabilità. Ecco, questo secondo me è il principio cardine proprio per definire il concetto di disabilità. Cosa può essere fatto per far conoscere alle persone con disabilità e ai loro familiari? Quali sono i rischi che ci sono nel nostro Paese? Informare. Informare, formare soprattutto le persone, contaminare la comunità di appartenenza per far sì che la disabilità venga considerata come una risorsa e soprattutto che i rischi che riguardano e possono riguardare le persone con disabilità possono essere arginati e avere così un impatto meno invasivo rispetto alla vita quotidiana dei nostri cittadini. Come possono collaborare FIS e FAND per la diffusione di buone pratiche di protezione civile? Già lo stiamo facendo da diverso tempo. I momenti di confronto all'interno dei convegni, all'interno anche di momenti partecipati in protezione civile piuttosto che in altri organismi territoriali, fa sì che venga alimentata quella cultura del sapere che è importante tanto per chi deve fare protezione civile quanto per chi deve ricevere l'attenzione degli organismi e dei soprattutto operatori che si occupano di protezione civile in questo Paese. Grazie a tutti!